Ciao bambini, come state? Oggi vi voglio proporre una nuova attività. Innanzitutto vi serve uno scolapasta da cucina che potrete chiedere alla vostra mamma. Dopodiché una bacinella con qualche spaghetto crudo. Come potete vedere lo scolapasta ha dei buchini. Posizionate così lo scolapasta, prendete gli spaghetti e li andate a inserire all'interno dei buchini nel modo in cui volete a piacere. Così. Dopo aver inserito tutti i vostri spaghetti potete estrarli. Li rimettete nella ciotolina e potrete iniziare l'attività ogni volta che volete. Buon lavoro bambini! Un bacio! Un bacio! Un bacio! Un bacio! Un bacio!